Salve, qui al Consiglio regionale il gruppo del Movimento 5 Stelle sta presentando una mozione che riguarda le unità sindacali di base. Che cosa si tratta? In pratica nella nostra mozione facciamo pressione e richiediamo alla Giunta affinché siano sentite e quindi vengono accettate all'interno di quello che è un discorso che riguarda la costa livornese o meglio ancora la costa toscana, ripeto, che vengono accettate e che vengono ricevute e tenute di conto anche quelle che sono le rappresentanze delle unità sindacali di base, non solo quelle confederali. Finora il Presidente della Giunta e il PD le hanno tenute fuori dai tavoli di incontro e dai tavoli di concertazione. Noi, visto anche l'alto numero di iscritti a queste USB come vengono definite, ne chiediamo che siano ricevute e che pertanto facciano parte dei tavoli di concertazione che dovranno risolvere tutti insieme la crisi, la crisi ampissima che è grava sulla costa toscana.